Il numero, ma questo non è una notità, la prendiamo e la troviamo più, macchina che scendeva, con una di griffa che prova a reagire a due decreti, messi in partenza a 325 davanti a Mubi Vaga e a Rol, con colleghi che assumono l'iniziativa, così in generale stagione ad accodarci davanti a Mubi Vaga. 3, 4, 2, 6, le prime 4 sono funzioni dopo 250 metri di guida davanti a Mubi Vaga e Rol che lo vedete bene, ma l'esterno in quarta posizione è uno 6 di Atonec, in quale stanno avanza il 5 di Macchia, con il suo gestione seguito da Oriani Ghiu, i due fascisti, Mac e Oriani Ghiu, seguito all'esterno con le 450 metri, con la battistata e il del griffo, a fila di Mubi Vaga, che è 1,5 a quanti di vantaggio, per quello primo sui 5 metri, il 452, in seconda posizione è passata a Mubi Vaga che ha superato il carto due a due decreti, all'esterno a Mubi Vaga, seguito da 8 metri e Oriani Ghiu, i calali che stanno per completare il mezzo milio iniziale, 800 metri di 1,1 e 7, con Mubi Vaga che ha parito in seconda posizione in Mubi Vaga, sempre seguito da Oriani Ghiu, che è più evidente, il verde griffo e la comando è sempre di griffo. Odile e Damino Ghiu, ben avanti a tutto il gruppo, vanno a completare il primo chilometro, lo passano in 1,16 e 7, guidano la corsa davanti a Mubi Vaga, con 5 di Mubi Vaga che ha in quarta posizione, italiano Ghiu, la richiesta da Salvatore Carro. Tra l'altro è il resto dell'abbidrittura, come Odile in vantaggio, a Mubi Vaga secondo, Oriani terzo, italiano Ghiu quarto, numero 6, 8 metri, politicamente, il numero di paletti si mette in vantaggio, scrive una centropista a Mubi Vaga e a Oriani Ghiu, ma è il griffo, non tiene la moglie, se a Oriani Ghiu, a quarto posto, italiano Ghiu, poi Omar Katar e gli altri.